Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie e pace di Dio nostro Padre dal quale per mezzo il Suo Figlio nato dalla Vergine provengono tutti i beni. Dio Onipotente ed Eterno che ci affidi le risorse e le energie del creato perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi l'opera delle nostre mani e tutti questi oggetti e fa che riconoscendo in Te il Sommo Bene instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tutti i vostri oggetti sacri benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti. 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 tutti i muri. Grazie a tutti. 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 Affinché veramente io possa offrirti tutto. In pienezza. Senza riserva. Fa che il mio abbandono provenga dalla convinzione che tu sei padre creatore, padre che ama, padre Salvatore Padre che mi vuol bene desidera guidarmi il Padre che desidera portarmi la salvezza perciò Signore in questo momento adesso completamente ti offro tutto il mio passato il mio presente e il mio futuro tutte le mie difficoltà tutte le mie oppressioni tutti i miei dolori tutte le mie debolezze Signore desidero offrire tutto desidero fare tutto con te perché posso tutto in te che mi rafforzi e mi doni la forza grazie a Jesus 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 pensieri, con la tua santità penetra in tutto il mio essere, entra nella mia vita, nelle mie relazioni, affinché io non trattenga gli altri per me e secondo le mie misure, ma fa che tramite me, mostra loro Signore la presenza del tuo amore, con il tuo amore prima di tutto trasforma me e poi tramite me trasforma i miei rapporti umani. Signore adesso desidero pregarti per il tuo spirito, per il tuo spirito santo. Signore manda il tuo santo spirito affinché discenda su tutti noi in questo momento, affinché possa riempirci, affinché possa proteggerci, studirci, manda il tuo spirito Signore affinché infiammi i nostri cuori per poterti servire degnamente, essere i tuoi discepoli, i tuoi apostoli in questo mondo. manda il tuo spirito Signore affinché allontani l'influsso del maligno, fa che il tuo spirito allontani ogni tentazione con la forza del tuo spirito. Signore aiutami a vincere ogni male, soprattutto quei peccati che non riesco a riconoscere. piccoli peccati che ormai sono diventati abitudine nella mia vita e non sono cosciente che mi legano. Signore guarisci il mio cuore, purifica la mia anima, affinché è libero, da tutto questo io possa servirti nella gioia e nell'allegria. Alla fine Signore ti prego per tutti i dolori, per tutte le prove, per tutte le croci. Signore con il tuo dolore e con la tua croce abbraccia tutte le mie ferite. aiutami Signore ad accettare le mie croci, perché soltanto tramite la croce possiamo vedere la luce della risurrezione. aiutami Signore, affinché la tua presenza sia la forza maggiore nella mia vita. attirami a te Signore anche quando cammino sulle vie smarite, sbagliate. e grazie Signore per il tuo amore tanto grande, grazie per il tuo amore dal quale proviene la misericordia più grande da ogni mio peccato, grazie per la tua grazia con la quale mi tocchi e mi attiri continuamente a te. a te. a te. a te. a te. Chi riei sono, chi riei sono.